Scatman's World Allora ragazzi siamo nella home page del canale e devo spiegare alcune cose Ho aggiornato le playlist e voglio spiegare un attimo il mio metodo Allora, queste sono le playlist in primo piano Quindi questi sono i giochi del momento MotoGP, PES, Procycling, Civilization 5, FF1, Microsoft Flight Simulator X e Surgion Simulator Quindi questi sono i giochi in uscita Esempio, finisce Surgion, boh, cazziamo Eurotrack e quindi diventa Eurotrack un gioco del momento Esce Civilization 5, entra SimCity, stessa cosa, sempre così Quindi ragazzi, questo è per l'estate, sono questi i giochi Poi, playlist, adesso andiamo a tutte le playlist, così ragazzi potete vedere anche i video passati Ci raccomandone, la Crysis 3, Far Cry 3, Battlefield Single e Multiplayer, Call of Duty Single e Multiplayer, Worms, Left 4 Dead, Tropico, SimCity, Civilization, Procycling, The Sims 3, The Hunter, Surgion, Eurotrack Simulator 2, gameplay veloce Quindi gameplay di tipo 2-3 video di Doom, 2-3 video di Metro, 2-3 video di Assassin, 2-3 video di Primal Carnage, robe così MotoGP, PES, Amnesia, giochi olimpici e sport in generale, Microsoft Flight Simulator, F1, GP4 e Racing in generale FIFA e le mie previsioni, i Total War, quindi tutti E non solo videogame che sono le cose un po' private e un po' vaneggiose nel comandone come unboxing e robe così Quindi ecco ragazzi, questo è il sistema, molto semplice, così insomma ho fatto tutte le cose un po' più ordinate E ora, 6444 iscritti ragazzi, vi ringrazio, siete veramente meravigliosi Se non posso rispondere a tutti ragazzi nei messaggi, non tanto perché ho milioni di messaggi ma perché veramente mi tocca registrare a volte anche le 5 di mattina ragazzi Quindi questa è la situazione, ho poco tempo purtroppo Quindi adesso i giochi, adesso ricapitoliamo, allora adesso c'è Per quest'estate MotoGP, fino insomma a vincere il mondiale e poi mi riposo un pochettino Pro Evolution Soccer, chiaramente andiamo avanti, non so quanti anni perché chiaramente sono tanti però almeno fino a PES 2014 Pro Cycle, intanto ci spariamo un primo anno di carriera che sarà lunghissima Civilization 5, adesso devo fare una campagna col Bode in multigiocatore F1, GP4, adesso devo aggiornare le varie mode, fare una dimostrazione della mode 2007, 2007 e quante E poi chiaramente c'è Formula 1 nuovo Fly Simulator ogni tanto un video di una rotta E Surgon finire qua la serie, insomma con l'ultima missione Poi ragazzi dopo questo Ci sarà il ritorno di Aerotrack Simulator sicuro E vediamo, forse The Sims ma non sono sicuro Raga, ok tutto a posto, tutto semplice Un saluto alle commentazioni Cummenda veneziano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Lo youtubers italiano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Cummenda veneziano Lo youtubers italiano Cummenda veneziano